Dobbiamo cominciare a ragionare, dobbiamo cominciare a pensare, cioè soltanto immaginare oggi di dover dar retta, dare credito a persone che fino a ieri erano no euro e oggi dichiarano, dopo essere stato con me con Stenaro su un palco a dire no euro, adesso dichiaro mai detto no euro, lascia stare, io non faccio i nomi, sono tutti lì, cazzo sono tutti lì, cioè siamo uno Stato dove domani mattina decido di sparare a qualcuno, non c'è un'opposizione, assolutamente, e tutti è giusto, hanno fatto bene andare lì, dove sono gli italiani? Te lo dico io dove sono, perché ti raccontavo prima un aneddoto, sarà ridicolo, ma l'altro giorno ti ho detto, io ho visto tre persone che non io a vedere i pipistrelli sotto il tetto e dicevano, hai visto quelli lì, portano il covid, bisognerebbe fare qualcosa, chiamo, che c'era il pipistrello sopra, sono pazzi, non stanno bene, mi guardavo proprio, stanno questi qua, cioè questo fanno, perché non hanno, ci hanno tolto la scuola, ci hanno già detto che virus o non virus andremo in didattica a distanza, didattica per produrre persone che sono lì a guardare i pipistrelli di notte, questo è il problema, cominciamo a contestare, cominciamo a scrivere, non potremmo fare niente oggi, non ho detto di fare nessuna attività violenta, ci mancherebbe altro, ma cazzo neanche dagli ragione, hanno fatto bene andare lì perché almeno dall'interno combattono, che cazzo è una roba, cioè o sei al governo o sei all'opposizione, io ho mai visto il governo d'opposizione, ma che dicevano, l'abbiamo inventato, siamo inventori noi, metto Leonardo da Vinci con gli inventori. L'opposizione c'è, l'opposizione c'è di chi? La Meloni, te lo dico dopo la pubblicità, sta scadendo la pubblicità.